Ciao bambini! Oggi è lunedì 20, lo fate sempre il calendario? Oggi il nostro amico uccelli pulcino si mette il maglioncino. Oggi vorrei fare un gioco con voi, lo facevamo sempre quando eravamo tutti seduti sul tappeto. Vi ricordate che facevamo le presenze? Chiamavamo i bimbi uno alla volta e uno diceva una cosa che gli piaceva. Questa mattina faccio io la calendarista e chiamerò i bimbi uno alla volta e ognuno mi dice qual è la cosa che gli piace di più della sua casa, visto che siamo in casa, oggi piove anche, non si può uscire. Siete pronti? Iniziamo! Tommaso, cosa ti piace della tua casa? Beatrice, Mattia, Valeria, Desiree, Matilde, Kadigia, Sara, Usnin, Francesco Baccaro, Alessia, Nives, Filippo, Ernesto, Jeremy, cosa ti piace della tua casa? Aurora, Viaggio, Enea, Diego, Manuel, Francesco, Cecilia, Ilenia, Alessio e Olivia. Avete risposto bambini? Ognuno deve pensare una cosa che gli piace della sua casa. Anche tu Aurora, eh? E poi oggi dobbiamo fare una cosa speciale anche. Purtroppo non abbiamo festeggiato tanti compleanni in questi giorni. Allora a scuola avevamo una bellissima torta fatta con i legnetti. Io non ce l'ho, ho preparato una torta un po' diversa, ma spero che vi piaccia lo stesso, ve la faccio vedere. Ecco qua. Adesso l'accendo perché in questi giorni hanno compiuto gli anni dei bimbi e non gli abbiamo potuto fare gli auguri. Allora questa mattina ve li faccio io. I bimbi che hanno compiuto gli anni in questi due mesi sono Alessia che ha compiuto il 18 marzo, Francesco Baccaro il 22 febbraio, Lanives il 7 aprile e Filippo il 14. Tanti auguri bambini! Buon compleanno! Chissà che bella festa vi hanno fatto a casa mamma e papà. Quando se torniamo a scuola ognuno riceverà il suo vasetto con il fiorellino. A domani! Ciao bambini!